Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi siamo qui finalmente con il primo episodio di Questo Quello, la serie nella quale vado a rispondere alle vostre domande e cerco di risolvere i vostri dubbi. Andiamo a prendere quello che è stato l'episodio Pilot Zero dove avete lasciato le vostre prime domande, prenderò i commenti in ordine cronologico cercando di rispondere a quanti più è possibile di essi. Non vorrei che il video venisse troppo lungo, quindi terrò sott'occhio il tempo, appunto cercando comunque di essere il più completo possibile, però non disperate se vedete che magari una vostra domanda è rimasta e risolta, perché vi ricordo che sotto questo episodio dovete lasciare le nuove domande che verranno poi risposte settimana prossima. Quindi senza perderci in chiacchiere, passiamo subito sulla schermata del video scorso. E abbiamo il buon Sikliwitz che mi chiede, James Futustar o Quadrado Rule Breaker? Ma nel ruolo di terzino, se consideriamo il valore assoluto, io ti dico James Futustar, perché difende sicuramente meglio, ha anche un body type più grosso, quindi magari tiene meglio di fisico, soprattutto i giocatori che circolano ultimamente. Quadrado rimane comunque un ottimo terzino, per cui se avete la necessità di linkare ad esempio giocatori come Cristiano Ronaldo, sicuramente il buon Quadrado, che utilizzo attualmente anche io nella mia squadra titolare, fa benissimo il suo, magari porta meglio un pochino più la palla. Però, insomma, se dobbiamo scegliere così tra i due, vi ripeto, valore assoluto, andrei su James. Lorenzo Sandrelli chiede, Gio Gomez o Diego Carlos Sardegliner? Tra i due, io preferisco Gio Gomez e vi spiego il perché. Parliamo di un giocatore che è alto 3 cm in più, 1,88m contro 1,85m. Costa si un pelino in più, ma è anche facilmente ibridabile, visto che è inglese, della Premier, eccetera eccetera. Inoltre lo trovo più fisico, un po' più automatico negli interventi e al momento per me è anche più rapido, visto che Statistica alla mano ha 85 di velocità contro l'82 di Diego Carlos, che comunque è una carta dinamica e potrebbe magari superarlo in futuro. Diego Carlos che per me, in Liga, rimane dietro difensori come Varane, Jimenez e poi si va a collocare lui, quindi 3-2, vi direi il buon Gio Gomez. E lì a Barbieri chiede, ci sta a mettere Walker difensore a 7, Tavernier terzino destro a 8 e Chiellini a 10 e poi switcharli con Chiellini DC, Tavernier CDC e Walker TD? Ti dico assolutamente sì, sono switch che puoi andare a fare, stai utilizzando due giocatori, una a 7 e una a 8, che non sono un problema, io personalmente i giocatori in difesa preferisco ad averli a intesa massima, ciò non toglie che comunque non è nella prima e l'ultima volta che si utilizzano anche in difesa giocatori fuori il massimo della loro chemistry, quindi ti posso dire va benissimo, Chiellini il DC lo fa egregiamente, Tavernier CDC ti dà qualità nei passaggi e in più è anche più rapido e reattivo e Walker il TD, non ve lo dico neanche che lo fa egregiamente. Simone Codi, Emerson Storyline livello 30, è valido? Assolutamente sì, come avevo detto nel video del pass è sicuramente la carta più valida, visto che c'è carenza di terzini destri lì in liga e poi è una carta gratuita. Gomez if a 10 o James Future Star a 7, ci chiede urlo del Sium come DC, io andrei su James DC a 7 di intesa, perché è più rapido, ha un body type simile a quello di Gomez e rapporto qualità-prezzo costa anche un pelino in meno, quindi andrei tranquillamente con il buon James. Irio Castrignano chiede, Marets la headliner usato COC ATT è meglio nel 4231 o nel 442 o 4422 come punta? è meglio Mane o Depay? Allora, per quanto riguarda la questione Marets, come ho già detto, il ruolo che gli vedo io calzare a pennello è il COC, quindi ti direi un 4231 o un Rombo. Azzardare anche magari il ruolo di CC sempre in un Rombo, non in altri moduli, la punta sicuramente no, un po' più diciamo l'esterno ma anche lì arrangiato. Per quanto riguarda invece il ruolo di punta, io onestamente andrei a utilizzare il buon Mane, perché è un po' più agile rispetto a Depay e mi piace di più quelli che sono i suoi movimenti. Depay comunque rimane una carta molto molto valida. Bruklum ci chiede, meglio Duncan Tonali o Chessy Tonali? Ti rispondo semplicemente, in base alla tua disponibilità economica la coppia migliore sarebbe sicuramente Chessy Tonali, però Duncan è un giocatore molto valido, gratuito, quindi se tu hai delle carenze in altri reparti della squadra puoi tranquillamente evitare di prendere Chessy e andare a rinforzare quegli altri. Quindi valore assoluto che si Tonali come coppia migliore, però valuta bene perché Duncan Tonali è un ottimo centrocampo. Giacomo Infantino chiede, KK91 o Runei 93 li userei entrambi come punta? Tra i due da punta probabilmente andrei a preferire Runei, perché nonostante io non l'abbia consigliato, KK non ce lo vedo proprio perché è un po' più statico proprio rispetto a Wayne e ce lo vedo solo da esterno, quindi se proprio devi andare a operare una scelta, anche rapporto qualità-prezzo, Runei ti costa sicuramente meno di KK. Vincenzo Mansueto chiede, meglio Mbappettoti esterno nei marci OC oppure il contrario? Sicuramente Mbappettoti e nei marci OC. Mi chiedo qual è il modulo che tu vada a utilizzare, quali sono gli altri giocatori, perché prendere Mbappettoti quasi 6 milioni di giocatori su Xbox, non ricordo, su Play è un po' un peccato, ecco, metterlo sull'esterno, cercherei di metterlo in una zona dove sicuramente incide un po' di più. Riccardo De Baptisti, Baptistis ci chiede, meglio Duncan o Tonali, anche qua, parliamo di due carte gratuite, per cui andavano sbloccate, potete tranquillamente testarle con le vostre mani. Tra i due io preferisco Tonali, perché è un po' più automatico, si piazza meglio sulle linee dei passaggi, intercetta un pochino in più, ma Duncan rimane anche esso un centrocampista molto molto valido. Aquila, SSL, Pelé mid o Cristiano Sif, con Ronaldo non ti sono trovato bene, preferisco giocatori agili alla Neymar. Anche qui ricadiamo in quella che è la sfera un po' delle preferenze, perché tra i due io ti dico preferisco Cristiano Ronaldo, per com'è il gioco quest'anno, fa un altro sport, butta le porte a terra. Tuttavia Pelé mid è una carta che è usata un botto anche in competitive, quindi sicuramente Pelé è molto valido, e se si sposa meglio al tuo stile di gioco, vai tranquillamente con Pelé, che è un attaccante coi controfiocchi. Domenico Piazza, affiancato a Bruno 92, nel 4-4-2, meglio Desely 88 o Blank? Io ti dico di andare sul sempreverde Blank, perché Blank è un giocatore che è più eclettico, abbina alla fase difensiva anche una buona fase di impostazione, quindi sicuramente si fa preferire a un Desely 88, il cui ruolo ideale sarebbe quello di essere switchato magari come DC, quindi vai con Bruno e Blank sicuramente. Sobosly o Kuluseski mi giocherebbero entrambi a 7, in questo caso andrei tranquillamente su Kuluseski, che è un 4-4, sicuramente è anche più agile del buon Sobosly, e ha anche dei maggiori margini per quanto riguarda le intese, quindi vai tranquillamente su di lui. È meglio Kamavinga Future Star, ovvero Baby, da affiancare a Renato Sanchez? Secondo me, rapporto qualità-prezzo, sempre e comunque il buon Vierat, perché quel Kamavinga è sia una carta molto forte, ma è overprezzata, è un giocatore che non è neanche così ingombrante come lo è un Vierat, quindi se devi fare un investimento importante di quel tipo, andrei tranquillamente a prendere un Vierat, piuttosto che un Kamavinga, perché hai proprio la necessità vicino a Renato di avere un giocatore grosso fisicamente. Riccardo Lograsso ci chiede, Tonale o Duncan in coppia con Bruno? Per il discorso che facevo prima, direi Tonale, visto che è maggiormente difensivo e si accoppia meglio a un giocatore box-to-box come Bruno. Papu Mkhitaryan, come C.O.C. nel 4-2-2-2, io ti direi Mkhitaryan, visto che andiamo a sfruttare quello che è il suo 5-Piede Debole che ti permette di essere un po' più imprevedibile. Tommaso Crivello, meglio Mediana Duncan-Nangola Halloween o Tonale-Nangola Halloween? Anche qua, stesso discorso, Tonale è maggiormente difensivo rispetto a Duncan, Nainggolan è un giocatore un po' più esotico, diciamo così, quindi vai a tappare i buchi di Nainggolan con Tonali. Per quanto riguarda Marco Vena, ci chiede, Theo o Walker if, immagino da DC, Petty Prime, Makelele Prime o Blank Baby? Tra Theo e Walker, la mia preferenza va su Walker, innanzitutto perché è un difensore appunto di ruolo e è anche un pelino un po' più agile e reattivo negli interventi quando lo controllate con l'L2, mentre Theo ha un body type un po' più corpulento, quindi preferisco Walker personalmente. Per quanto riguarda Petty, Makelele e Blank, stesso discorso, preferisco Blank in quanto è un giocatore un po' più totale rispetto agli altri che sono solo difensivi. Tra i interi metto in classifica, Blank, Petty e poi Makelele. Fabrizio Bini, Alessandrini, Kuluseschi oppure Ronaldo Baby? Allora, non so se Ronaldo Baby, tu intenda Ronaldo, quello flashback, Wish Edition, ti dico lui. anche se ha 3 di piede debole rispetto a un 4 di Kuluseschi o di Alessandrini, ti dico lui, visto il body type eccetera eccetera, mentre tra Alessandrini e Kuluseschi ti dico Kuluseschi, per quanto riguarda il fatto che è un po' più grosso, prende un po' più campo eccetera eccetera. GianlucaL ci chiede, meglio Sissoko Road to the Final o Blank Baby accanto a Bruno? Anche qua ti vado sempre a dire Blank, perché Sissoko è un giocatore molto hypato negli anni di FIFA, esclusivamente difensivo, molto piantato, con i piedi è negato, quindi andrei su un Blank che si sposa benissimo con quelle che sono le caratteristiche di Bruno. DJ Anonimo chiede, non riesco a trovare un modulo, meglio 4-2-3-1 o 4-3-2-1? Questo per quanto riguarda i moduli, ve l'ho detto, raga, dovete solo testare e vedete quello che più si sposa e si cuce addosso a quello che è il vostro stile di gioco, perché magari io mi trovo bene col 4-2-3-1, tu ti trovi male e ti potresti trovare meglio col 4-3-2-1, sono tutti e due moduli validi che devi semplicemente testare. CR7 Ifo Cruif Mid Baby per Alessandro Bobo da punta a tutta la vita cristiano che finalizza una potenza tiro di Cristo, mentre Cruif ha una potenza tiro molto bassa che gli fa sbagliare un sacco di gol, quindi Cruif più 10 o C. Uberto Manfredi ci chiede un centrocampo fatto da Renato Bruno e Kamaminga potrebbe essere buono, ovviamente, immagino in un 4-3-2-1, in un 5-3-2 è un centrocampo completo, hai quantità e qualità. Enigma, una coppia di mediani intorno ai 500k, uno dei due potrebbe essere anche una carta non scambiabile, ad esempio Tonali, qui è molto insomma relativo perché dovrei magari sapere la tua squadra, una buona coppia potrebbe essere magari Renato If e Tonali, quindi quantità e qualità e quantità e qualità ma più un po' più di difesa con il buon Tonali. Abbiamo poi il buon Andrea che ci chiede, è meglio Cristiano flashback o Lozzano? Ho già risposto nel video di Cristiano, sicuramente Cristiano, visto che prende più spazio con quelli che sono i suoi movimenti, i suoi speed boost. Mattia Giorgino ci chiede, rendono nel 4-2-3-1 Bruno e Renato If Mediana oppure meglio Bruno Canté? Vale la pena comprare Renato a 2-70k, a Gomez base a 10 o Walker base a 7. Per quanto riguarda Bruno e Renato If e Mediana, sono i centrocampisti che utilizzavo anche io e Renato vale assolutamente quei crediti, è il suo prezzo, sicuramente meglio di Canté visto che è più completo, mentre da Gomez base a 10 e Walker base a 7 tranquillamente vai su Gomez a 10, che è un difensore di ruolo e difende sicuramente meglio del terzino di Walker adattato. Per quanto riguarda Davide Corbani, ci chiede di Pedro con Calves uscita la review appositamente, quello che succede su YouTube ci dice meglio Firmino Bruno base, Canté base e Jorente If o Marquinhos? Ma tra questi io direi di andare tranquillamente su un Canté e Jorente If, visto che Firmino e Bruno base difendono molto poco, Marquinhos non mi fa impazzire, andrei tranquillamente su quei due che si vanno a completare a vicenda. Meglio Closterman Road to the Final o Walker base? Ovviamente, manco a dirlo, Closterman 100x, Walker base adattato da DC il terzino, assolutamente no, per me non esiste. Fabio Izzi, meglio Varane base o Teo Hernandez headliner? Io andrei tra i due a preferire sempre il difensore di ruolo, il buon Varane che è presente ancora oggi anche in squadra da qualifica. Tuttavia Teo, anche rapporto qualità-prezzo, tuttavia Teo in valore assoluto è un po' più fisico, massiccio e anche più rapido, quindi forse sarebbe meglio lui, però è anche più difficile da linkare, quindi valuta bene. Butraghenio può giocare a centrocampo in un 5-3-2? Assolutamente no, quest'anno non può giocare manco da punta, quindi figuriamoci a centrocampo. Maxime Niffo, Mané, ti dico, vai su Maxime Niffo, visto che ha anche la quinta stella skill rispetto a Mané e poi si busta alla grande con quel body type che c'ha. Chris ci chiede, nel 4-4-2 con Rashford, Neymar e Mbappé chi è meglio a S e chi è meglio a TT? Bah, nel 4-4-2 banalmente metti Neymar e Mbappé che è l'attacco che uso anche io e Rashford esterno che lo uso anche io, quindi vai tranquillo così. Tavernier, Headliner a 8 o Walker a 10? Se intendi Walker, chiaramente la versione base, vai tranquillamente con Tavernier, Headliner a 8, non ci sono problemi. Come a TD meglio Ronaldo o Kuluseski? Stessa cosa, preferisco Ronaldo per via del suo body type. Meglio Rashford base o Mane base come punta? Vai pure con Rashford per via della quinta skill, che ti dà un po' più di imprevedibilità. Tra Neymar e Mbappé e Rashford, chi metti esterno nel 4-4-2 metti Rashford, stessa risposta. Luigi Ranucci, Pelé Baby o Cruif? Come punta, vai tranquillamente con il buon Pelé. Cruif, ti ripeto, non finalizza benissimo per via della sua potenza tiro. CR7 base o Dalglish? Tutta la vita Cristiano, nonostante mio figlio Kenny rimane sempre qui nel mio cuore. Con un milione come cc a fianco di Bruno, io andrei un attimino ad attendere, o a prendere una bella icon alla Blank, o farei uno sforzo economico e mi porterei a casa a Renato Europa League, nonostante il prezzo è molto hypato al momento. Samu ci chiede, Gomez, Van Dijk, Varane, ti servono due nomi per una difesa a due tra i tre. Tra i tre, tutta la vita, Gomez, Varane, che è la stessa difesa che usavo io, anche visto che Van Dijk ormai ha fatto un po' il suo un po' lentino, ecco, in questo senso. Jacopo Elia ci chiede, Mbappé o Neymar da punta a fianco a Cristiano? Attualmente molto meglio Neymar, visto che si va a prediligere quello che è un gioco molto più basato sull'agilità. Gianluigi Cordua ci chiede, chi è meglio tra Cannavaro Prime, Carlos Alberto Bebi, Ferdinand Bebi e Campbell Prime? Tutta la vita il buon Ferdinand Bebi, ma per esempio non ti dà niente di più rispetto a un Varane come dici tu, e Maldini Mid sicuramente, tra tutti questi, è quello che effettivamente ha un quid, una spanna in più rispetto agli altri. Dalglish Prime, Mbappé, non c'è proprio dubbio invece che, purtroppo, quest'anno Dalglish non può circolare, e andiamo a cannone sul buon Mbappé. Icone che possono fare gli esterni nel 4-4-2, prezzo massimo un milione, Best Garrincia, costano un pochino in più, ma sono gli unici lì a destra che lo possono fare, mentre a sinistra non abbiamo nessuno di buono. Podio tra tre troppo attaccanti come R9 Mid, Ronaldo, Toti e Mbappé Toti, io li metto in quest'ordine. Mbappé Toti, Ronaldo Toti e R9 Mid. Se poi mettiamo R9 Prime, li scavalca tutti, perché è clamoroso. Marezzo, Cristiano Flashback, dice Alevisk, tutta la vita da esterno, Cristiano, come vi dicevo prima, Marezzo solo da COC o da CC, esagerando. Tra Varane Ucl e Van Dictoti, Van Dictoti fa un altro sport, Rita, quindi vai tranquillamente con il buon Van Dic, volevi sapere se ci saranno altri obiettivi da fare per conquistare delle icone, dice Sebastiano, sì, i nuovi swap dovrebbero uscire tra lunedì, e ma è venerdì, quindi sicuramente dovrebbero uscire. Daniele Russo, chiede meglio Gomez o Kondé, tutta la vita Gomez o Kondé, tutta la vita Gomez, poi avevo letto la parte successiva della domanda che era una battuta. Giuseppe Mantione, secondo te può esistere la mediana Pogba e Bruno o prendi un Kanté, vai con un Kanté, perché purtroppo Pogba difende poco. Già Bruno non è che proprio difenda alla perfezione, è bisogno di qualcuno un po' più, diciamo massiccio, ecco. Insigne 87, o c'ho la no-go-dur-breaker per Pisucchio, andrei tranquillamente sul buon Insigne, hai sbloccato Kimaraes, dice Andrea, meglio lui o Kanté, se l'hai sbloccato, vai pure con Bruno che è fortissimo. Da esterno sinistro, meglio Mane Base o Maxime and Freeze, tutta la vita Maxime and Freeze, anche se rapporto qualità-prezzo, potresti anche andare a risparmiare con un Mane, e andare ad investire in altri reparti. Tommaso ci chiede, meglio James, Future Star o Klyber da terzino, deduco che tu Klyber lo abbia già sbloccato, quindi rimani con Klyber, non sprecare soldi. Se invece ce li hai entrambi non scambiabili, io preferisco James per come porta palla, è meno, diciamo, ingombrante, ecco la porta meglio. Andrea Loffredo chiede, si possono usare come DC, Teo a 10 e James a 7 per sostituire Gomez? Assolutamente sì, come ho detto anche in precedenza. Antonio ci chiede se in Bappettotti vale tutti quei crediti, e se indeciso tra Pellino 95 e Cristiano 94, ti dico, in Bappettotti io lo sto usando, ed è veramente un toro. Marco Damagini mi chiede, Kulu a 7, Lautaro 88 a 10, Zaa 87 a 10, o Rashford 86 a 10 come esterno? Io andrei tutta la vita ad andarci a mettere il buon Rashford che è il suo, lo fa. Kulu a 7 si può utilizzare, però io quello lo utilizzerei nel caso ti servano delle intese tipo a Ronaldo. Luke Mark, Tonali a 7 e Kantea 8, e Gimaraes DC a 10, io Gimaraes a 10 e Kantea 8 in mediana con Varan DC andrei tranquillamente sulla seconda opzione, mentre un utente non meglio precisato ci chiede, meglio Ramos Toti o Varan Champions? Se siete abituati a uno stile di difesa molto aggressivo e manuale, andate su Ramos Toti, altrimenti andate su Varan Champions. Siamo arrivati quasi a 20 minuti di video, ecco, quindi io non voglio stare a a sediarvi troppo, ho cercato di rispondere a quante più domande possibili, insomma, non erano neanche rimaste tantissime, quindi magari c'è già la risposta a quelle che sono state le domande irrisolte, quindi ascoltate bene il video, vi ricordo di lasciare le domande nei commenti per la prossima puntata, vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, perché sono cose che ci fanno crescere, stiamo andando una bomba, in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, e raga, a me non resta altro che avvocarvi una buona giornata, dal vostro Riberoski, un salutone, ciao ciao!